Amici sportivi, appassionati di calcio, in questo caso femminile, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento dedicato allo sport di casa nostra, dicevamo puntata incentrata sul calcio femminile, chi ci segue e vi ringrazio per essere sempre di più sera dopo sera sa che spesso parliamo di sport al femminile perché è giusto dare uguale spazio, uguale risonanza a tutte le categorie, a tutte le discipline ma soprattutto superare questo fastidioso pensiero che ci sia uno sport di serie A per uomini e uno sport di serie B per le donne, non vogliamo fare retorica, vogliamo fare cronaca, vogliamo fare informazione e per parlare proprio di calcio femminile e per raccontarvi cosa è nato a Sant'Eusebio, questa sera abbiamo due graditissimi ospiti, abbiamo Giulia Giordano e Camilla Marcolin, le ho invertite però insomma sono entrambe le calciatrici della Bassanese Women, buonasera a tutti, buonasera, allora intanto benvenute insomma vi ritroveremo nel corso della stagione perché seguiremo da vicino le vostre vicende quindi preparatevi a tornare se superiamo il test di oggi, se superiamo l'esame di stasera scherzi a parte a proposito di esami, a proposito di test, le ragazze hanno iniziato il campionato siamo arrivati alla terza giornata di campionato, facciamo un po' il bilancio, iniziamo da Camilla raccontaci un pochino intanto del vostro campionato e di questo inizio di stagione beh, il campionato è abbastanza impegnativo, ci sono varie realtà, è stata una scoperta questa squadra, è stata una possibilità per dare spazio a ragazze di varietà è cominciato un po' alti e bassi, però siamo una squadra nuova, dobbiamo imparare a conoscerci e lo stiamo facendo e sono convinta che le potenzialità ci sono, gli obiettivi anche quindi secondo me si potrà fare un'ottima stagione invece Giulia raccontaci un po' più nello specifico, parliamo anche delle partite disputate come sono state queste prime partite di una squadra nuova, lo ha ricordato Camilla Marcolin poco fa, è un progetto di cui si parlava già da tempo ma che è sbocciato quest'estate un progetto che ha il sapore della continuità, di un progetto a medio e lungo termine di crescita come sono state però queste prime partite, difficoltà, avversarie, insomma raccontaci un pochino del vostro mondo? Beh sicuramente abbiamo cominciato in maniera non troppo positiva forse anche dipende dal fatto che non ci siamo conosciute sin da subito, adesso con il tempo siamo sempre più affiatate sia fuori che dentro il campo e quindi questo ci rende sicuramente migliori sia dal punto di vista del gioco e sia dal punto di vista poi di quello che è alla fine il risultato. Allora intanto in bocca al lupo per il proseguo della stagione, vedremo dopo quali saranno le prossime avversarie delle ragazze però dicevamo un gruppo nuovo un gruppo che si sta formando nato quest'estate, raccontateci un po' la vostra quotidianità cioè come vanno gli allenamenti, la vita da spogliatoio. Camilla partiamo da te, la vostra settimana tipo com'è calendarizzata, com'è organizzata? Allora noi ci alleniamo due volte a settimana più la partita la domenica, gli allenamenti variano ogni giorno e diciamo che anche ad allenamento sappiamo distinguere i momenti in cui scherzare, i momenti in cui essere un po' più serie, c'è forza di volontà, sicuramente non manca e c'è anche un supporto da parte della società, degli allenatori che comunque vuol dire che contribuiscono appunto a questa crescita. Ogni allenamento c'è sempre qualcosa di più. E questo è l'atteggiamento giusto, è un segnale importante anche di professionalità perché ci si diverte ma quando insomma c'è da fare sul serio si fa sul serio. Giulia, la vita di spogliatoio invece com'è? Perché abbiamo detto che siete una realtà che non ha vissuto in prima persona le restrizioni del lockdown e quant'altro perché insomma la squadra è nata quando la vera emergenza pandemica ha cominciato un po' ad attenuarsi quindi c'è stato un po' più di libertà, di movimento e di azione. Però comunque siete un gruppo di ragazze nuove, un gruppo che deve trovare la giusta amalgama, come sta andando con la vita di spogliatoio? No, diciamo che sta andando bene anche da quel punto di vista perché alla fine magari c'è un gruppetto che da sempre si è conosciuto, da sempre ha giocato a calci insieme, quindi è stato facile amalgamare anche le più giovani o comunque le ragazze che erano nuove e quindi anche da quel punto di vista lì siamo molto unite, molto affietate, il nostro gruppo non si ferma solo all'interno dello spogliatoio ma usciamo anche insieme anche al di fuori dell'ambito calcistico e quindi secondo me è molto importante perché se delle persone sono affietate sia fuori che dentro il campo sicuramente il gioco non può che risentirne in maniera positiva. Assolutamente, insomma ne risenti in maniera positiva un po' tutto il clima che si respira all'US Bassanese, si respira per capirci in quartiere Sant'Eusebio, un clima affietato, un clima positivo nell'accezione buona del termine anche per quello che riguarda i rapporti con la prima squadra maschile, insomma, quindi c'è comunque uno scambio costante di consigli piuttosto che voglio dire un confronto tra di voi, com'è il rapporto con la squadra maschile? Beh, con la squadra maschile siamo molto affietate e questo è una cosa positiva perché quando ci sopportiamo a vicenda, quindi quando giochiamo noi vengono a fare il tifo loro se non giocano e viceversa e penso sia una cosa molto bella che va di fuori anche del contesto calcistico. E questo sicuramente è importante perché insomma serve anche a superare come dicevamo all'inizio quelle barriere mentali che fortunatamente ormai sono sempre meno, sono sempre più basse se si sta veramente facendo passi importanti in questo senso e posso dire che era ora che si andasse in questa direzione, non c'è più una distinzione netta fra il calcio maschile e il calcio femminile e proprio su questo argomento vorrei coinvolgervi, so che è un argomento che a qualcuno suscita ancora un po' di fastidio nel parlarne perché dovrebbe essere la normalità accettare sia l'uno che l'altro. Voi che ne siete le protagoniste insomma, sentite che c'è ancora un po' di diffidenza, c'è ancora un'aura un po' di sufficienza quando si parla di calcio femminile oppure il movimento calcistico femminile territoriale sta veramente crescendo? Pensiamo anche a quello che sta succedendo con il Bassano, con la squadra femminile del Bassano, ma non solo, stanno nascendo sempre più realtà tinte di rosa e a proposito di rosa si può parlare tranquillamente anche di un progetto interessante a Rosà. Voi come percepite la considerazione degli altri? Beh, io come Giulia siamo nate con il calcio, quindi sicuramente sta prendendo sempre più piede e finalmente stanno un po' abbattendo queste barriere come le definite e c'è ancora purtroppo un po' di diffidenza perché viene sempre visto come un calcio, come uno sport maschile ma negli anni comunque ci sono stati dei progressi e io sono convinta che ce ne saranno sempre di più. Ecco, Giulia, per esempio i tifosi che vi seguono, perché so che avete una serie di ultras, chiamiamoli così, insomma una clac dei supporter molto affittati, oltretutto gli impianti sportivi a Sant'Eusebio sono molto ben curati, quindi insomma c'è grande attenzione anche sotto questo punto di vista, ma i tifosi, l'ambiente circostante eccetera vi fanno sentire veramente a casa? Oppure, come diceva Camilla, c'è ancora un po' di difficoltà nel considerare ugualmente una partita di calcio maschile e una partita di calcio femminile? Sicuramente sì, c'è ancora qualche tifoso che pensa che il calcio femminile sia diverso da quello maschile, ma io penso sia anche normale, siamo due realtà diverse e come in ogni sport c'è una categoria femminile, c'è una categoria maschile, questo non vuol dire che siano uno sport minore e uno sport maggiore, siamo due squadre che giochiamo lo stesso sport, sicuramente noi abbiamo caratteristiche fisiche e morfologiche diverse, però è comunque lo stesso sport, i tifosi sicuramente la prima partita magari sono venuti più per curiosità per vedere cos'è questo sport, questo calcio femminile, ma penso che non abbiano trovato queste differenze abissali con la controparte maschile. Sono perfettamente d'accordo, la tua valutazione è proprio quella che noi portiamo avanti anche come redazione sportiva, non si possono mettere sullo stesso piano i due sport per questioni fisiche, di caratteristiche fisiche, ma possiamo e dobbiamo metterli sullo stesso piano come considerazione, insomma come sport, come valenza, come impegno, come spettacolo, quindi il metro di giudizio deve essere diverso necessariamente, però entrambi gli sport vanno giustamente considerati e questo vale per tutte le varie discipline. Allora chiudiamo questa riflessione, questo nostro piccolo sfogo anche personale per tornare a parlare invece dell'US Bassanese e delle Bassanese Women per andare a capire un attimino cosa vi aspetta adesso nelle prossime settimane, campionato, impegni, Camilla raccontaci qualcosina. Allora adesso abbiamo delle partite sempre più impegnative a partire da domenica e quindi qui si vedrà la crescita della squadra, si vedranno... L'avversario di domenica? Le Torri, una squadra di Vicenza, una squadra che nella carta è al nostro pari livello e speriamo che siamo in grado di battere. Assolutamente, facciamo il tifo senza nulla togliere alle ragazze delle Torri e invece Giulia pronte, cariche, siete allenate bene, fisicamente e mentalmente come state? Fisicamente e mentalmente secondo me ci siamo, stiamo crescendo sempre di più ad ogni allenamento come ha detto Camilla, quindi dobbiamo solo secondo me riuscire a trovare il giusto equilibrio tra quello che è il divertimento all'interno del campo e quello che è poi l'impegno di riuscire comunque a trasformare tutto quello che abbiamo fatto in allenamento in risultati positivi anche in partita. Nel ringraziare la regia di Renzo Rigone e Fabio Berin ci hanno fatto vedere prima delle immagini di voi che facevate rafting, insomma come fare gruppo, come creare gruppo, ma le bassanese women sono impegnate e tanto anche nel sociale con la Onlus Women for Freedom, insomma voi portate in giro anche un messaggio importante, raccontateci di cosa si tratta. Beh, noi siamo state scelte come ambasciatrici diciamo di questa associazione che si occupa di dare un'importanza ai diritti delle donne in tutto il mondo e penso sia un onere, anche un onore supportare questa associazione e dare la loro giusta importanza. Assolutamente, quindi insomma, campionese in campo, si spera, ci si prova, ma forse la partita più importante è quella che si gioca anche al di fuori, del contesto puramente sportivo. Chiudiamo, perché siamo arrivati agli sgoccioli di questa nostra puntata, chiedendo a Giulia come è stato tornare a fare sport con continuità dopo comunque sappiamo i mesi difficili. Ora, l'abbiamo detto prima, le bassanese women sono nate quest'estate quando le maglie diciamo della restrizione si erano già allentate e parecchio, però comunque avete vissuto direttamente o indirettamente i mesi difficili della pandemia, del lockdown, dello stop alle attività sportive, sapere che adesso fortunatamente si sta andando verso una graduale continuità e una serenità, con che spirito vi fa scendere in campo? Sicuramente è uno spirito diverso, perché se prima comunque magari ci si poteva allenare ma non c'era il campionato, quindi sì, allenamento andavi, però non avevi quello spirito, quella voglia di dire sì, mi alleno perché voglio far bene la domenica. Quindi sicuramente da questo punto di vista sapere che ci può essere una continuità e possiamo allenarci per riuscire ad arrivare a dei risultati e concludere il campionato è sicuramente qualcosa di positivo. E allora noi, come vi dicevo prima, seguiremo da vicino anche gli sport femminili, anche il calcio femminile e mi permetto di dire, leviamo la parola anche. Seguiremo il calcio femminile durante tutta questa stagione, quindi riavremo ospiti le ragazze della Bassanese Women, invitiamo chiaramente allenatore, dirigenti e quant'altro, stesso discorso per tutte le realtà femminili del nostro comprensorio. Io non posso far altro che ringraziare Camilla Marcolin e Giulia Giordano per essere stati in nostra compagnia questa sera. Grazie ragazzi. Grazie a voi. E allora noi ci rivediamo domani sera, poco prima delle 20, sempre qui con Sport in Casa, puntata speciale, non perdetevi, non vi anticipo niente, vi sintonizzate su Rete Veneta e lo scoprirete da soli. A domani. Grazie a tutti.